Il Castello del Buon Consiglio è un vasto complesso architettonico formatosi progressivamente tra la metà del 200 e la fine del 600 dall'aggregazione di diversi corpi di fabbrica addossati alle antiche mura cittadine. Simbolo della città di Trento rappresenta una preziosa testimonianza storica sia dal punto di vista architettonico militare che da quello artistico. Visse infatti dei secoli di grande splendore, costituendo la residenza dei Principi Vescovi di Trento dalla seconda metà del XIII secolo fino alla secolarizzazione del Principato nel 1803. Il nucleo più antico, Castelvecchio, sorse come fortificazione a ridosso delle mura, ma si trasformò presto in residenza viscovile a seguito degli interventi architettonici che si susseguirono tra 1300 e 1400. In particolare, Giorgio di Liechtenstein collegò al castello Torre dell'Aquila, preposta al controllo del lato orientale della città, e al suo interno fece affrescare al pittore boemo Wenceslau il celebre Ciclo dei Mesi, considerato un capolavoro assoluto del gotico internazionale. Gli affreschi costituiscono un documento prezioso della situazione economica e sociale del Trentino, tra la fine del 300 e l'inizio del secolo successivo, raffigurando con grande realismo e secondo l'alternarsi delle stagioni, sia gli svaghi delle classi nobili, sia il lavoro dei contadini nei campi. Bernardo Cless, principe vescovo dal 1514 al 1539, affiancò all'antico edificio il Magno Palazzo, una maestosa residenza rinascimentale, e per decorarla chiamò in città alcuni tra i migliori artisti del tempo. Dosso e Battista Dossi, Girolamo Romanino, Marcello Fogolino, Vincenzo Grandi, Alessio Longhi e Zaccaria Zacchi. Al Romanino venne affidata la decorazione di vari ambienti, tra cui la loggia che si apre sul cortile dei Leoni, un ambiente posto in posizione centrale e di raccordo fra le varie parti del palazzo. Tra 1531 e 1532, l'artista bresciano realizzò un celebre ciclo a tema profano, con episodi mitologici risalenti alla tradizione della letteratura classica o ricavati dalla Bibbia. La struttura del castello rimase quindi inalterata sino al tardo 600, quando il principe vescovo Francesco Alberti Poia fece costruire una nuova ala per collegare Castelvecchio a Magno Palazzo. Si tratta della giunta albertiana, realizzata sul progetto di Giuseppe Alberti, pittore e architetto di fiducia del principe vescovo. Dopo la fine del potere temporale dei vescovi, il castello iniziò il suo lento declino. Nel XIX secolo venne trasformato in caserma e durante la prima guerra mondiale vi furono imprigionati e giustiziati alcuni noti ridentisti trentini, tra cui Cesare Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa. Dopo essere stato nei secoli uno dei maggiori complessi fortificati urbani delle Alpi, il castello ospita oggi le collezioni provinciali d'arte, formando una rete territoriale a cui fanno anche capo i castelli di Peseno, Stenico e Tunno. Ed è anche sede di importanti mostre.